Se Lucio Battisti fosse nato a Napoli, mi è venuta sta cosa. Come potrebbe essere una cosa? Mi fai una nota? Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso vedere, finalmente è vero, ma perché? E questo è il modo di cantare che c'è nelle sceneggiate napoletane, perché loro da che parlano tranquillamente? Allora sono lì che fanno così, e come stai, tutto a posto, no, perché oggi sono andato a comprare, e senti, devi andare lì a comprare un ghilo di pane, signore mi da un ghilo di pane, napoletane la signora. C'hanno sempre questa cosa, ad esempio vi faccio una storia, una storia semplice, no? E noi la sceneggiamo, semplice, bambino che va dal padre, dice papà sono stato promosso, il padre dice bene, adesso ti meriti un regalo, ti vado a comprare qualcosa d'oro in una gioielleria, ma lì succede il patatrac, fanno una rapina, il bambino muore, il padre deve andare a comunicarlo alla madre. Stacco! Di solito i padri cantano sempre, mentre sono a casa. Non lo so neanch'io quello che ho detto, scusate. Ho detto una cosa giusto per... Papà, ho stato promosso, bravo figlio mio, fammi vedere la pacella, sette, otto, sette, 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 bravo, vieni, ti compro un set da quattro, orologio d'oro, catena d'oro, monopattino d'oro, quaderni d'oro, penne d'oro, scuole d'oro, vieni, andiamo all'orologio... Ah, scusate, andiamo all'orologio lì! Si presentano, buongiorno, prego mi dica, mio figlio è stato promosso, ci vorrei comprare una chila da d'oro, sette, otto anelle che si mettono nella vita a cinque, sei piani, per cortesia, ma a un certo punto... Fermi tutti! Questa è la rapina! Dico, aiuta tuo figlio, l'hanno colpito! Lui canta! Cennarina! Cennarina! Cennarina è morta! No, no, ragazzi, no, no, è prima Califano, no, bravo, 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 bravo Fiorella, e se tu amo fare queste cose? Non so di cosa parla. E credo fai un milanese, un milanese, questo è Solari, eh? E tu, che sei stato sempre un mio fan, un ammiratore della mia canzone, sempre, non ho sfottuto, non lo faccio, non lo permette, non lo permette. Don Mario permette? Dimmi. I figli sono pezze di cuore, ma che le sono pezze vere. Ha riso, ha riso. Queste sono carezze. Mi potete inquadrare la parte di questa faccia? Si vede? Me lo vuole dare un'altra? Lo sa, tu sai che ti voglio bere? Non me l'aspettavo mai a te. Non li la faccio. Grande Mario Merola! Quei un moltoosis! Lei sa, tu sai che io? E tu sai che ti voglio�kommen? Sì 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 Sì